Novembre in festa nel borgo di Montegrosso ad Andria. Per l'occasione ha organizzati percorsi espositivi culturali di artigianato ed enogastronomia, concerti, passeggiate a cavallo e degustazioni di prodotti tipici locali. Ieri la presentazione ad Andria. Partito col We Are Terre e Sapori domenica 4 novembre scorso presso l'altro villaggio, cioè percorsi espositivi culturali di artigianato ed enogastronomia, è entrato nel vivo novembre in festa, ovvero un mese di appuntamenti variegati nati da una sinergia tra gli enti istituzionali preposti ed esperti del settore a cura dell'assessorato alla cultura e al turismo di Andria. Una sinergia in particolare tra la provincia, Barletta Andriatrani, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e poi la parrocchia di Sant'Isidoro, le strade dei vini Doc Castel del Monte, Slow Food Puglia, la cooperativa Coloni di Montegrosso e la Proloco di Andria. L'obiettivo dell'organizzazione di questo nuovo calendario è comunque quello di sviluppare un incoming turistico anche per il nostro territorio in modo da attirare sempre più turisti dalle città, non solo limitriche ma un po' da tutta la zona. Puntiamo molto su questo tipo di sviluppo che potrebbe certamente far aumentare il nostro PIL della città, è una situazione come sapete che è una situazione un po' difficile. Però in questo momento sono dell'idea che non occorrono risorse economiche ma occorre soltanto molto impegno soprattutto per coordinare tutte quelle realtà locali a livello enogastronomia, ma parlo anche di strutture ricettizie, parlo di servizi di accoglienza che hanno bisogno in questo momento di un coordinamento e soprattutto anche di coordinare quegli enti territoriali che sono preposti, che già sussistono per uno sviluppo turistico dell'intero territorio perché l'agro di Andria non è soltanto Andria, Andria ha anche Montegrosso e Castel del Monte e quindi si trova in un parco che è il parco dell'Altamurgia che è un parco abbastanza grande e quindi sviluppare anche strategie a livello turistico con queste città facenti parte non solo del parco ma anche con le città limitrofe per sviluppare anche percorsi turistici, nuovi percorsi turistici e quindi nuove mete di attrazione per tutti coloro a cui inizia a piacere questo brand che è il brand Andria. È una sfida importante su cui stiamo cercando di investire, ripeto, soprattutto l'impegno e soprattutto grande disponibilità e speriamo di avere i primi risultati. Certamente non è una sfida facile ma si sa che nei periodi di difficoltà nascono nuove opportunità e quindi fare di più con meno è la nuova sfida di questo assessorato. Questi gli eventi in programma il 10 e l'11 novembre, festa di San Martino e ogni mosto e vino a Borgo Montegrosso, concerti musicali, spettacoli dei briganti, passeggiate a cavallo, esposizioni artistiche e artigianali, degustazioni di prodotti tipici locali e garden baby per i piccoli. Domenica 11 novembre in programma alle ore 21 a Villa Bontan, sempre nella frazione di Montegrosso, la serata Baglioni con Paco Bucci Quintet promossa dalle associazioni culturali Asincrono e La Piscara con il patrocinio dell'assessorato alla cultura e turismo del comune di Andria, provincia abate e parco nazionale dell'Altamurgia. Dunque attenzione puntata su Borgo Montegrosso. Finalmente che siamo ricordati di Montegrosso che per me dovrebbe essere il polmone del territorio, dell'ambiente, dello sport perché è dentro tutta una zona, un territorio bellissimo dove ci sono solo aziende biologiche integrate nel cuore dell'olivicultura di Andria per cui per fortuna si stiamo svegliando e piano piano tutte queste manifestazioni serviranno a lanciare oltretutto i nostri prodotti tipici che sono quasi unici devo dire per la loro qualità. E domenica 25 novembre invece si conclude in piazza Catuma con la festa del burger organizzata dallo Slow Food Castel del Monte e il comitato impresa centro storico di Andria.